La signora Scolini ha detto a farti tante cose ecco le foto del suo naso no ma io c'ho solo un programma del 7 una tante di aro ma io rispettura un po' perché questa non funziona e invece questa roba è che qua non si vede niente no? perché il programma del naso non ce l'ho proprio messo capito? oddio quanto è brutto! è solo un naso quando ho fatto la sua colpa? si mette seduta tranquilla io adesso vedo quali modifiche a portare al suo naso e lei intanto mi racconti tutto tutto da lui tutto tutto? io sono l'ultimo gemita dei 5 figli chi piace va nel negozio di articoli sanitari al laurentino sono cresciuta tra la progesi il pombole d'ossigeno baccena e siglette e per i cazzini a rinchiere non lo so come le persone che non mi sono state bene neanche un secondo che dava pure un po' a farsi la natura e quando si aggiano meno male che adesso le cose sono tanto cambiate dottorezza eh il cadavolo era proprio tipo un cucciolo dei quelli esagerati tipo un sette e noi ce l'avevamo un sette di grandese la luccia che poi è morto la luccia è morto perché il cane era brutto eh io li andavo sempre dietro li volevo sempre dietro perché era proprio agitata a quell'epoca mia madre che adesso non è stata tanta la mia armata dottoressa però diciamo che l'epoca era così poi che è successo da un certo momento all'aventino è arrivata la dronda ahia e tutti hanno impicciato a passare qualche cosa chi se faceva aerodrombe bombe sbambe coccole spade io lei e io mi facevo fossigeno dottore mi esturavo le bombole del negozio di papà a dieci ma quanti t'era un problema mi facevo tre quattro giorni era una dipendenza dottore allora che è successo i miei disperati sono loro da baccarotto vanno iscritto a sport quale sport? tutti nuoto, sci, tennis, equitazione a me se vuoi dire lo sport ti fa salvato la vita adesso insegno un palestra cosa insegna? palestra tutti i giorni bratti di sabato proprio qua ai vari occhi poi che è successo che la mattina c'erano avuto 12 anni che svegliero tutta imbarazzata tanto che pensavo che era una punizione per il mio piatto d'ossigeno no eh e infatti era una punizione quella che Dio demanda a parte da noi femmine e fa magari un po' donato di uzzini tutti i mesi e il puto delle donne dottore nonacca no era diventata signorina con i piatti i pelli e tutto e poi soprattutto sto caso ma dottore io mi guardavo specchio e non me li conoscevo più mi dicevo ma chi se ma chi te conosce e tutti mi dicevano che la soviera si è anche stato così ma non è vero io sono sicura di qua non è successo qualcosa di misterioso allora mi domando dottore qual è stato l'ossigeno no eh vabbè comunque ho vissuto come dentro l'incantesimo io ho sempre sperato a volte a me svegliere prima o poi l'incantesimo col naso che c'avevo prima oppure con gli aiuti del principe azzurro che ti svegli a teatro ti fa sentire bella così come sei purtroppo allora ho il filo incontrando solo fino alla lineata allora ti sono operati beh cosa le pensa ma che vuoi far così se le piace ma è come un momento beh allora senta ma quanto vuoi mette adesso ci mettiamo a ricordo meglio anche la miss ma che se vaga un centimetro si dovrebbe così no perché se ne fanno un prezzo ho portato pure le fanno dei siti con i miei labbri tanto che credi sono qui grazie Grazie.